Se pronunciamo la parola austerity, i ben informati pensano subito alle direttive economiche di risparmio e di rigore che alle volte i governi sono costretti ad adottare. Ma a qualcuno, con qualche cappello bianco in testa, che negli anni 70 era un ragazzo o poco più, la parola austerity evoca città deserte la domenica per totale assenza di automobili circolanti. Città intere trasformate in una gigantesca isola pedonale, per i ragazzi di allora una pacchia assoluta. Oggi questo non è più praticabile, ma il dominio assoluto sulle strade è un ricordo indelebile nella mente di molti di noi. La città da giocare ripercorre quella piacevole sensazione. Una volta all'anno, una porzione di strade di Fano, abitualmente usate dai veicoli a motore, Viale Buozzi, Viale Gramsci, il Pincio e parte di Via Roma, ha completa disposizione di bambini e bambine ed annessi genitori per una giornata intera. Sì, ovviamente è una manifestazione che ha un alto valore simbolico, ma è anche un'occasione di divertimento per i bambini e per le bambine. Viale Gramsci, che è la via più importante della città, viene occupata dai bambini. È un segnale come per dire che i bambini si riapropriano della città, si appropriano degli spazi pubblici. Ma in realtà dietro c'è un progetto molto più complesso e importante, che è anche una filosofia di come amministrare una città. Una città che sia sempre più a misura di persone e per tutti. 70 associazioni cittadine, sia sportive che ricreative, con laboratori, dimostrazioni, prove in estemporanea per grandi e piccini. Un paese dei balocchi a cielo aperto. Sì, veramente, perché questa mattina abbiamo iniziato con tutte le tappe in giro per la città che avevamo programmato, ovviamente con un po' di preoccupazione perché il tempo non prometteva nulla di buono. E invece è venuto fuori un sole magnifico e c'è una giornata che è all'altezza veramente delle aspettative, dei sogni, soprattutto, lo voglio dire, dei genitori, degli insegnanti, dei bambini che hanno preparato da mesi, in alcuni casi, questa giornata da giocare. E vedere finalmente che a pochi minuti dall'avvio della manifestazione, via le Gramsci, si sta riempiendo di famiglie, di cittadini, è veramente una grandissima soddisfazione, pensando soprattutto al lavoro che le scuole, le associazioni hanno fatto in queste settimane, in questi mesi. Al sindaco tra i denti è scappato un, se la ripetessimo una volta al mese, tanto è stato l'entusiasmo che ha accolto lui e tutti nel vedere quanto ogni cosa a misura di bambino diventi magica.